ciao a tutti oggi è venuto a trovarci un ospite davvero speciale la bici come sappiamo è fatta anzitutto si di telaio si di team manager si di atleti e li abbiamo avuti qui tutti oggi invece è venuto a trovarci una persona che lavora nelle retrovie di questo mondo ma che in realtà contribuisce a un'espansione un'evoluzione continua di questo mondo abbiamo infatti qui il vicepresidente e global marketing manager di fsa claudio marra a tutti grazie alessandro per avermi invitato in questa questa sede per parlare appunto della storia che se è un po dell'evoluzione della bicicletta appunto come dicevamo anzitutto fsa vision sono tra i leader nella produzione di componentistica quindi quello che vogliamo sottolineare oggi appunto come la bici vive anche e soprattutto di evoluzione tecnica grazie a chi ha fatto un'arte nella componentistica un'altra cosa molto interessante è la storia di fsa perché io ho segnato che è una startup in tempi non sospetti ecco chi meglio di te claudio può raccontarci un po di come è nata fsa di come è nato poi vision esatto ma diciamo che quando io ho iniziato questa collaborazione il marchio full speed ed esisteva già da dieci anni è stato costituito in california nella famosa america california dove arriva un po la parte della mountain bike e il fondatore che d'armi se l'attuale titolare aveva deciso di creare questo marchio negli stati uniti con l'intenzione di produrre accessori con un rapporto qualità prezzo veramente alta infatti le prime diciamo produzioni di articoli alta gamma avevano tutta la tendenza ad essere fatti per mountain bike e ha iniziato questo tipo di produzione negli anni 90 poi ha avuto l'idea di arrivare in europa ma passando per l'europa occorreva avere un contatto già inserito nel mondo della bicicletta e douglas ha cominciato a chiedere ai suoi clienti chi potrebbe essere una persona che poteva gestire questa sede per l'europa e da lì abbiamo iniziato abbiamo aperto la sede full speed ed in europa nella sede a cavenago nel 2001 e da lì abbiamo cominciato io collaboratore erano in due e abbiamo iniziato piano piano entrando nel mondo delle bici da corsa è stata una grande diciamo opportunità perché la nostra diciamo presenza era grazie a delle filivelle in carbonio dove in quel momento il composito stava cominciando a diventare un prodotto veramente importante inizialmente con le forcelle piano piano quei telai ma ancora non c'erano tantissimi telai in carbonio ma pochissimi brand e soprattutto cominciò arrivare anche accessori come manubri attacchi manubri reggisella e noi avevamo portato la pedivella da quel tempo c'era già in partenza un grande risparmio di peso soprattutto di rigidità e poi chiaramente il carbonio era qualcosa di diciamo esotico particolare chiaramente era ben accettato dal mondo della bicicletta di alta gamma da lì abbiamo iniziato abbiamo fatto un budget di ricorderlo bene il primo anno di 500 mila euro di vendite il primo anno abbiamo fatto addirittura il triplo e da lì è stata una continua crescita fino a tempi recenti in sostanza benissimo hai già trattato dei punti che poi ci aiuteranno nel corso dell'intervista da sviluppare soprattutto il discorso full speed ahead avanti tutta quindi questa evoluzione senza fine mi collego per chiederti anche di vision perché la nascita di vision è successiva e anche questa è una storia interessante che secondo me va raccontata sono le ruote che vedete su corbrelli sono le ruote di Wout van Aert sul Mont Ventoux sono le ruote che vedete praticamente su gran parte dei corridori ma poi sono ruote anche messe rese al pubblico finale quindi due punti da trattare in questa domanda sicuramente la nascita di vision ma anche quella parte che stavi cominciando a spiegarci che poi la nostra stessa filosofia che si gli atleti si costruttori di biciclette con cui potete creare un avanzamento tecnologico ma poi alla fine anche la stessa performance al pubblico finale esatto il fatto di avere uno stretto contatto con tanti team tanti corridori è un po una sfida dove ci chiedono sempre di migliorarci il nostro prodotto per poter dare qualcosa di vantaggioso il fatto di produrre tutto in casa ci dà veramente un vantaggio enorme di poter accogliere richieste poter sperimentare i corridori e poi trasferire questi vantaggi sulla gamma del prodotto che viene poi offerta al cliente diciamo di biciclette di alta gamma sia corsa che mountain bike o triathlon infatti in quell'epoca nel 2003 abbiamo deciso di introdurre una gamma di manubri per biciclette da strada e mountain bike per il mountain bike è stato abbastanza gioco facile perché comunque avevamo già una grande penetrazione nel mercato di quel tempo per la bici da strada abbastanza ma quello che era importante se sponsorizzavamo team occorreva avere i manubri da strada ma anche da cronometro pertanto da cronometro occorrono i manubri da un certo livello chiaramente posizione performance eccetera e quel punto lì non avevamo molte scelte o ci creavamo questa tecnologia o la compravamo già fatta visti i tempi molto stretti abbiamo deciso di comprare un marchio abbiamo scelto vision perché in quel tempo vision era già stato utilizzato da hamström aveva già vinto il tour de france e tanti altri atleti del triathlon sono spostati poi le bici da corso al cronometro hanno portato questo tipo di brand nel mondo del professionismo infatti vision erano stati sviluppati dei prodotti con diciamo dei brevetti per aver fatto di un pezzo unico l'attacco manubrio il clamp sullo sterzo e soprattutto l'estensione tutto in un pezzo unico il che ne dava un manubrio estremamente aerodinamico solido robusto e soprattutto una posizione ergonomica eccezionale infatti quell'epoca era peter freiman che aveva sviluppato questi prodotti aveva avuto grandissimo riscontro da parte dei triathleti infatti lans hamström prima di essere un professionista aveva fatto del triathlon per questo ha portato questi manubri così evoluti nel mondo del professionismo quindi abbiamo comprato questo marchio e abbiamo combinato bici da strada manubri fsa e per quanto riguarda le cronometro vision e abbiamo iniziato a fare questo tipo di binomio e poi ci ha portato via via ad aumentare la gamma dei prodotti poi a manubri abbiamo abbinato chiaramente anche manubri da strada reggisella pedivelle e ovviamente la parte importante che derivava era soprattutto le ruote perché essendo da cronometro occorrevano avere ruote a profilo alto per anteriore o lenticolare posteriori o addirittura a tre razze che poteva essere il completamento di tutta la gamma da lì abbiamo deciso poi di stabilire che tutto quello che ha prodotto diciamo aerodinamico filante sia per bici da strada che da cronometro diventassero sotto brand vision e fsa si dedicava più che altro ai prodotti della trasmissione quindi il cambio il deragliatore le pedivelle catene quello che rapporto discorso legato ai cambi e c'è sempre un momento nelle nostre interviste dove facciamo un piccolo quiz ovviamente qui stiamo parlando di prodotti di altissimo livello e quindi leghiamo il quiz al prodotto la prima cosa sicuramente che mi viene in mente è la famosa pedivella compact del tour de france del 2003 qui c'è una bella storia da raccontare non vi svelo niente esatto in quel tempo devo dare atto a Pausto Pinarello il quale mi gli diede l'idea di produrre una più livella chiamata compact cioè con ingranaggi molto più piccoli questo perché poteva agevolare tantissimo durante la salita sul fatto di avere davanti invece di avere il 39 53 quindi rapporti molto duri da pedalare con rapporti più piccoli poi 34 50 questo dava la possibilità agli amatori o chi vuole avere una pedalata più agile poter utilizzare questa soluzione in effetti Pinarello aveva cercato da diversi produttori di avere questo tipo di prodotto nessuno l'ha ascoltato FSA ha accettato la sua richiesta l'ha prodotto e in effetti abbiamo iniziato a vendere al mercato che abbiamo avuto subito un riscontro positivo perché era un po il prodotto che mancava devo dire che in quel tempo esistevano alcuni paesi come la francia e la svizzera dove ancora usavano più livelli da strada triple specialmente per chi faceva tanta montagna occorreva una pedalata abbastanza diciamo veloce c'era il problema che pesavano tanto e soprattutto il fattore q era troppo largo il che non era proprio ideale per chi voleva fare bicicletta ad alto livello quindi la compact diciamo rispondeva a queste esigenze fattore q corto più di bella con pedalata molto agile e soprattutto semplice perché comunque era molto contenuta anche nel peso e quindi un'estremità di soluzione questo però potrebbe essere valida anche per i professionisti magari non come neppure a compact col 34 50 ma bensì col 36 52 che in quel momento era veramente una novità assoluta da qui avevamo già avuto discreto riscontro da parte del mercato un giorno siamo andati alla partenza su de france e credo che partisse da quell'epoca da strasburgo e tyler hamilton il giorno il primo giorno della cronometro è caduto e si è rotto la clavicola tyler hamilton quel tempo correva nella csc parlando con bianris abbiamo provato questa nuova pd vela che in poteva dare dei vantaggi e bianris dice sì interessante ma noi siamo professionisti non possiamo correre con delle compact però dice interessante per il mercato però specialmente chi vuole fare poca fatica potrebbe essere una buona idea fatalità tyler hamilton cade e quindi sta decidendo se ritirarsi al tour de france continuare a correre con una certa fasciatura però il problema non è tanto in pianura il problema era durante le tappe di montagna perché chiaramente con quel tipo di dolore non poteva fare troppa fatica ha bisogno di una pedalata agile quindi la domenica mattina mi chiamo al telefono bianris e mi dice ma sarebbe interessante trovare con queste pd vela compact e vedere se tagliare a metto potrebbe fare le le alpi con questa pd vela però mi dice ho bisogno al 36 52 ora 448 chiamo i miei colleghi a taiwan l'hanno prodotta in 24 ore me l'hanno spedita con ops e in tre giorni ho in mano queste nuove pd vel le abbiamo prese caricati macchine siamo corsi sulle alpe il tour de france la sera prima le ha montate sulla bicicletta il giorno dopo tyler hamilton ha fatto le tappe delle alpe d'huets credo che fosse arrivato addirittura terzo o quarto in quella tappa che è stato veramente l'apocalisse perché grazie a questo tipo di soluzione è stato sdoganato che oltre agli amatori anche i professionisti potevano utilizzare la compact e da allora tutti i professionisti hanno cominciato a usare i compact nelle tappe dure tipo non so il tirolo tipo l'angliru eccetera che in quelle tappe usavano pd vel le triple con i disagi che potete immaginarvi in questo caso hanno trovato la soluzione quindi pd vel le leggere contenute con il fattore q e che potevano dargli un aiuto in queste tappe veramente due quindi anche qui quello che dicevamo prima cioè prendere l'automobile farsi produrre pd vel le 24 ore se non è una mentalità da start up questa poco ci manca mi attacco invece sull'altra domanda che poi è diciamo un po il prodotto principe di fsa o che comunque andrà a svilupparsi sempre di più nel tempo che quello più altamente tecnologico che è il gruppo abbiamo scelto in questo caso la quinta tappa della vuelta con la vittoria di bh del tiburgos bh che è una vittoria appunto storica e anche qui c'è da raccontare come ci sia un'azienda la quarta azienda al mondo un po più piccola delle altre ma che va a sfidare i giganti dei gruppi che sono le altre tre marie chiamiamole e appunto questa tappa va a certificare quello che si diceva quindi il professionista vince dal feedback che possiamo mettere poi questo feedback nella produzione dei prodotti che andiamo a dare al pubblico finale ecco appunto raccontaci un po di questo gruppo un po della sfida che è stata anche qui di voler fare un gruppo elettronico che non è da tutti i giorni e poi la la parentesi della vuelta sempre della vicinanza i team e il racing come punto di partenza chiave per lo sviluppo del prodotto esatto il nostro obiettivo di fsa era quello comunque oltre 15 anni fa di poter diventare una delle top 5 6 aziende al mondo della produzione di componenti di alta gamma e tra questi ovviamente c'era il primo posto il gruppo abbiamo capito come mai nel mondo ci sono solo quattro aziende che possono fare questo tipo di prodotto perché è veramente difficoltoso tanto per gli investimenti quanto anche per i brevetti esistono centinaia e centinaia di brevetti intorno ogni tipo di prodotto ad esempio intorno alle leve intorno ai comandi interno al deragliatore intorno diciamo anche il deragliatore posteriore le batterie è veramente difficile trovare la soluzione per raggiungerci questi brevetti e questo ne ha dato tanto lavoro per noi e soprattutto ne ha ritardato l'entrata nel mercato perché tante volte scopriamo dei brevetti che erano diciamo ritenuti segreti fino alla pubblicazione che ci mettiamo in condizione di ricominciare da capo comunque con tanto impegno con tanta buona volontà siamo riusciti abbiamo messo il mercato questo gruppo wireless e abbiamo iniziato a darlo a una squadra spagnola la BH Burgos con la quale abbiamo sempre trovato una stretta collaborazione e abbiamo iniziato circa tre quattro anni fa è stato il massimo del diciamo per noi aver potuto vincere una tappa della vuelta la quinta tappa come tu hai detto ed è stato per noi veramente un apocalisse perché è stato il cronamento di un sogno durato anni 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 oggi ci troviamo comunque a combattere questo mercato dove esiste sempre la difficoltà a poter trovare dello spazio e stiamo però convinti che piano piano troveremo il nostro spazio anche all'interno sia del mondo delle bici da corsa su altri settori ultimo domanda del quiz è sicuramente l'avete vista trionfare recentemente alla parigi rubè con sonny corbrelli e in questo caso va fatto un approfondimento perché perché anche nuovamente fsa in questo caso vision va a spingere un pochino il livello perché parliamo di una ruota parliamo della nuova vision metron e parliamo di una tecnologia che si sta da qui in poi diffondendo che il tubeless con gli atleti e che ha permesso non solo per il tubeless ma anche lato tecnico ora vedremo in cosa consiste appunto però grazie appunto a questa tecnologia possiamo dirlo sonny è riuscito a portare a casa una delle classiche monumento più ambite da sempre e tra l'altro in una situazione difficile dico di corsa ecco esatto un po quello che è avvenuto tanti anni fa per la compact oggi ad esempio il mercato credo che il 90 per cento delle biciclette viene venduto con le compact e questo è stato grazie a fsa che è veramente cambiato un modo di utilizzare la bicicletta pensiamo di poter fare un po lo stesso tipo di percorso con la tubeless perché siamo stati primissimi con il team f cannondale a spingere questo tipo di prodotto abbiamo visto i vantaggi specialmente inizialmente sulle cronometro e poi via via è stato esteso anche le tappe normali come le tappe leggeo d'italia o addirittura durante le classi del non per poi aver ritenuto questo risultato grazie a col brelli infatti anche lo stesso sonny è stata la prima volta che ha seguito il nostro consiglio ha usato delle ruote tubeless ha avuto l'intuizione anche di gonfiarle una pressione sotto i 4 bar il che gli ha dato la possibilità di poter ammortizzare durante queste diciamo queste pedalate sui sassi a livello esagerato il che gli ha dato veramente un vantaggio in termini di performance di aderenza e soprattutto evitato di far cadute se non l'ho portato alla fine dovete avere questo risultato eccezionale credo che da oggi poi sempre più vedremo a professionisti utilizzare le tubeless in vari tipi di percorsi quindi occhio che le tubolari tremano arriviamo finito il quiz arriviamo un po a una domanda sull'oggi e sappiamo che è stato un periodo difficile per tutti ma sappiamo anche che la bici invece ne è uscita un pochino più rinvigorita diciamo come infrastrutture come tecnologia come investimenti eccetera tu che sei un uomo di mercato da tanti anni come vedi adesso la bike industry e dove vedi che ci si sta spostando ma sicuramente la pandemia ha accelerato questo processo che aveva già in corso infatti per una serie di motivi già le famiglie si cominciano a vicinare alla bicicletta perché poteva essere un mezzo per diciamo spendere il proprio tempo libero stare in famiglia senza dover per forza viaggiare o soprattutto cambiare anche il percorso delle vacanze non andare dove c'era la massa sulle spiagge o cose di questo genere poter approfittare di visitare luoghi particolari grazie all'impiego di biciclette specialmente mi rivolgo all'e-bike pertanto questo tipo di situazione ha accelerato questo fenomeno e ha creato questo boom queste famiglie non potendo viaggiare non potendo spostarsi anche per il commuting per andare in ufficio evitando di utilizzare i mezzi pubblici in un certo senso sono stati obbligati a usare questo mezzo il che poi lo ha fatto riscoprire a livello diciamo diciamo totale e di conseguenza un po il momento in cui questa pandemia ha rallentato le produzioni inizialmente nel frattempo aumentata la domanda ha creato questa situazione di crisi a livello di reperibilità di biciclette componenti e quindi questa carenza oggi stiamo avendo delle grandi situazioni di difficoltà il che ha portato ai prezzi altissimi e con quanta soprattutto difficoltà a trovare le biciclette ideali comunque sia sono convinto che anche dopo la pandemia quando si comincerà a viaggiare ritornando un po' una gran parte di questi clienti che sono avvicinati resteranno il che sicuramente porterà un continuo sviluppo della bicicletta a tutti i livelli quindi vedo un futuro molto positivo molto roseo e utilizzando tutti i livelli di biciclette sia i bike sia muscolare strada mountain bike che porterà sicuramente un grandissimo vantaggio tant'è vero che oggi non per niente tutti i grandi fondi di investimento stanno cercando di investire sempre più nella bicicletta dove vedono un futuro roseo a livello commerciale soprattutto anche finanziario ecco mi hai fornito seguo la scia mi hai fornito già lo spunto per la prossima domanda che è quella che va a chiudere a far da corollario a tutta l'intervista che è appunto un momento difficile di reperimento di prodotto ma anche la sensibilizzazione del pubblico alla bicicletta e come hai detto tu su tutti i livelli ora fsa vision sappiamo infatti che già produce per tutti i livelli per dare appunto con la qualità del professionista al pubblico finale bike rooms come sai ha l'obiettivo di preservare il forte valore emozionale di ogni bicicletta e soprattutto di mettersi in un'altra in una nuova forma di mercato dove va ad abbinare sì il digitale ma anche il ricondizionamento della bici ora cosa pensi di bike room se ti piace il progetto e appunto dove troviamo questa sinergia questa parte sinergica che appunto la meccanica la tecnica il ricondizionamento e la certificazione sì penso che bike room oggi risponde a una idea veramente unica interessante soprattutto poi di poter offrire all'amatore che vuole avere una bicicletta identica o del professionista addirittura però perfetta in termini di qualità funzionamento manutenzione quindi riesce a fare il trade union tra la bicicletta del corridore la professionista della squadra all'amatore oggi è un'opportunità unica perché è una cosa che prima in passato non esisteva e soprattutto in generale in passato le biciclette delle squadre venivano date agli amici e gli amici ai parenti tutta una cosa abbastanza familiare e tante volte rischiava che le biciclette restano magari vendute in qualche cantina e poi restavano un po dimenticate grazie oggi la bike room c'è la possibilità di renderle disponibili per per una vasta diciamo platea di mercato e soprattutto metterle in disposizione di avere tanti marchi insieme e soprattutto con la certificazione del prodotto che sia a posto cento per cento addirittura con qualità di regolazione soprattutto di messa in strada è perfetta nei miei dettagli grazie claudio per essere stato con noi e ci vediamo presto magari su qualche circuito racing di quelli più difficili più tecnici dove i prodotti fsa vision performano e noi lo sappiamo bene perché gran parte delle biciclette che mettiamo a disposizione degli utenti sono montati con con i vostri grandi prodotti grazie 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 a te grazie a backroom per avermi dato questa opportunità grazie a voi grazie a tutti